Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'ex stazione marittima del porto di Pescara, lato Banchina Sud, diventerà la sede di un nuovo mercato del pesce, moderno e innovativo. Il progetto esecutivo per l'adeguamento dei locali verrà realizzato grazie alle risorse di oltre un milione di euro assegnate al comune con un bando regionale. Tanto l'ex stazione marittima è stata acquisita dal comune di Pescara, è una proprietà demaniale ma in sub concessione, da qualche mese l'ha acquisita e si è dato via questa idea, questo progetto di trasferire il mercato, l'asta del pesce dalla zona nord alla zona sud. Un lavoro importante, un lavoro da 1.054.000 euro che sarà finanziato dall'ente regione perché il comune ha partecipato ad un avviso pubblico e ha ottenuto e ha conseguito la prima posizione in classifica proprio per la bontà e per l'efficacia di questo progetto di trasferimento. La vendita da tempo possibile nella zona nord del porto si sposterà dunque a sud dove la nuova asta del pesce risponderà anche alle nuove esigenze di mercato. Questa stazione marittima diventerà un'asta moderna con impianti elettrici e comunque funzionali a questo ma soprattutto cambia il cuore del mercato dell'asta del pesce perché in questo finanziamento è previsto un importo considerevole proprio per cambiare il sistema attraverso l'implementazione di sistemi hardware e software che renderanno moderno ed evoluto il sistema dell'asta del pesce. Realizziamo in questo spazio della ex stazione marittima un nuovo mercato del pesce perché sposteremo nella zona sud del porto il mercato ittico all'ingrosso perché oramai la vocazione della zona nord è quella culturale turistica con il museo del mare che conterrà anche il museo delle genti di mare con il centro delle tartarocche marine che sposteremo al mercato ittico al minuto. Quella zona si trasformerà e nel contempo quest'altra zona sud di Pescara acquisirà più un ruolo e una vocazione legata alle attività marinare vere e proprie.